Il loro luogo di ritrovo era un garage arredato e con giochi per trascorrere il tempo, ma in realtà il locale era diventato anche un club della marijuana. Nei guai è così finito un quindicenne a fare la scoperta i carabinieri di San Giovanni che nei giorni scorsi erano impegnati nel controllo del territorio del paese valdarnese ed hanno sentito provenire dal garage un forte odore di marijuana. Nel locale i militari hanno così trovato un gruppetto di ragazzi e durante la perquisizione sono saltati fuori 10 grammi di infiorescenza di marijuana, una modica quantità di hashish, un bilancino di precisione, materiale di confezionamento e la somma di circa 1000 euro in bacconote di piccolo taglio. I carabinieri hanno così identificato il responsabile, uno studente quindicenne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. I militari hanno poi controllato anche l'appartamento del giovane dove è stata trovata una pianta di cannabis sistemata in un vaso sul balcone e spacciata per pianta ornamentale.